Dietro la morte di Yevon Sherban ci sarebbero Iulia Timoshenko e Pavlo Lazarenko, altro ex primo ministro. Per la procura generale sono stati mandanti nel 1996 dell'omicidio del deputato e uomo d'affari, considerato uno scomodo rivale. La nuova accusa lanciata venerdì contro la leader della rivoluzione arancione scatena la reazione dei suoi avvocati. È stato Viktor Yanukovic a guadagnarci di più politicamente. A quattro mesi dall'omicidio, improvvisamente e inaspettatamente, divenne il governatore della regione di Donetsk. L'accusa di aver sborsato 2,8 milioni di dollari per commissionare l'omicidio è arrivata in occasione del rinvio di un altro processo ai danni della Timoshenko, già condannata a sette anni. La ex primo ministro era assente in aula perché in ospedale, dove secondo i suoi sostenitori versa ormai in condizioni critiche. Circostanza smentita dai sanitari, ma oggi non è stato consentito a nessuno di avvicinarla. Il procuratore generale afferma che le indagini sulla Timoshenko avrebbero potuto concludersi durante la presidenza di Leonid Kucma, ma ha aggiunto che per casi come questo non ci sono termini di prescrizione. Evgenia Rodenco, Euro News, Kyiv.